Il doppiaggio italiano è il migliore del mondo, ma parliamo di qualcosa che ormai è stato sdoganato, non è che uno come doppiatore non vuole far imparare le lingue alla gente, è un modo per veicolare a tutti qualcosa, è come un buon libro, lo traduci, se tu García Lorca lo sai lo spagnolo lo leggi in spagnolo, se Shakespeare lo sai in inglese lo leggi in inglese, ovviamente anche Dante è tradotto all'estero, poi se sai l'italiano o comunque il volgare del 200 lo leggi in quel modo, per cui è una traduzione, può essere una buona traduzione o una cattiva traduzione, una scelta ovviamente come un buon libro può essere adattato male. Il doppiaggio è questo, però noi siamo i primi a averlo inventato, negli anni 20 quando per salvaguardare la lingua italiana nacque proprio il doppiaggio e da lì è stato veicolato in tutto il mondo, a parte i paesi inglese si doppia in tutto il mondo, ma siamo i migliori, visto che a detta soprattutto degli americani eccetera, vengono prima da noi per veicolare poi il doppiaggio nelle altre lingue, nelle altri paesi, a meno qui siamo primi al campionato del mondo, da altre parti non ci siamo manco qualificati, vabbè. Lasciamo stare. Senti, eppure qualcuno, tipo non so, cito un cassella, ha detto che il doppiaggio in Italia è inutile. Sì, sì, forse anche lui è inutile, non è il problema, parlare senza un rimbalzo dall'altra parte va tutto bene, io posso dire essere l'uomo più bello del mondo in questo momento, non ho dall'altra parte un contraltare che possa mettere in dubbio quello che sto dicendo in questo momento. Ci vuole anche un'educazione da questo punto di vista, parlare di un argomento così delicato, ormai si è affrontato con tutte le università perché questo Gran Premio non è soltanto una serata di gala, comincia tre mesi prima con tutte le giornate, simposi, incontri in tutte le università più importanti, con tanto di linguisti, vocologi e quant'altro, per cui parlare di un doppiaggio inutile è un problema personale, ormai tu puoi vederlo in tutte le lingue, se sai il turco, guardatolo in turco, fallo tutti originali, poi vedrai, devi veicolare, allora anche i libri, da domani tutti in originale, vediamo quanti ne vendi, cerchiamo di farlo nel modo migliore, quello sono d'accordo, magari certe serie, visto che arrivano poi, non è colpa nostra, arrivano in due secondi, in due secondi devono uscite, c'è il rischio di non farlo bene, sono d'accordo, lì se ne può parlare, ma che il doppiaggio non sia utile, che le traduzioni e gli adattamenti non siano utili, beh, questo lascia il tempo che trova, tu sei un purista, va bene, ti rispetto, assolutamente, ma non è certo il doppiaggio che proibisce alle persone di imparare le lingue, è quello che si fa a scuola. A proposito di serie, chiudiamo, stai facendo una web serie, ho letto. Sì, no, quelle tante, sì, sì, c'è Manero, sono altre due in preparazione, sai, esce quella con la premiata ditta, una reunion straordinaria prodotta da Crai, che dal 26 sarà su web, su tutto, dappertutto, perché quello è il veicolo nuovo, meno male, in questa carriera che dura ormai da 37 anni, quasi 1600 puntate in televisione, insomma, più di 400 film doppiati da protagonista, al teatro, ma guarda, non lo dico per vantarmi, che soltanto mi fa molto piacere ripetere questi numeri, solo perché mi sento un buon artigiano, niente di più, un buon artigiano che ama il suo lavoro. Questa riunione, questa riunione, come è nata? Ma noi siamo amici da sempre, non ci siamo mai abbandonati, abbiamo lavorato insieme 27 anni, per cui era normale che poi si prendessero anche delle strade parallele, è giusto, insomma, abbiamo quasi 60 anni, è uno, credo, dei gruppi più longevi che ci siano stati in circolazione, per cui c'era venuta questa idea, con Crai che ha prodotto, abbiamo fatto queste 20 serie nei supermercati per raccontare in maniera comica tutto quello che può accadere, ma è molto carino.